Il progetto è un progetto molto ambizioso e un progetto che ha dato veramente una svolta nel campo della didattica. Il progetto significa avvicinare il monto giovanile nel campo dell'apprendimento sempre più a quelle che sono le esigenze e il linguaggio moderno, cioè il linguaggio della multimedialità. La scuola non può dissertendere a queste che sono le esigenze emergenti oggi nel campo dell'educazione. Sicuramente è una scuola già avviata nel campo delle nuove tecnologie, anzi direi ben avviata. Il mio compito a partire dal primo settembre è stato quello di potenziare ulteriormente ciò che già esisteva. Ha impegnato molte classi e sono stati guidati questi tanti alunni da tanti docenti. D'altronde la scuola non può non allargare queste belle iniziative a tutto l'istituto, quindi un considerevole numero di alunni. Per di più questi alunni hanno avuto possibilità di confrontarsi, d'altronde è lo spirito del progetto che lo prevede, con molti altri alunni sia della nostra nazione che anche di altri paesi europei. Sicuramente è una formazione ad hoc, infatti il referente e il responsabile del progetto con altri docenti si sono recati a Firenze in qualche occasione per frequentare corsi di formazione appositamente organizzati dall'Indira che aveva uno scopo ben preciso, quello di formare e di potenziare quelle che sono le conoscenze nel campo della multimedialità e di dati. La soddisfazione per quanto è stato realizzato in quest'anno scolastico dai docenti di questo istituto. Grazie per la visione! Grazie a tutti!